Una delegazione della National Italian American Foundation, l'associazione degli italo-americani attiva negli Stati Uniti, è giunta domenica in Campania per una missione che comprende incontri istituzionali dai quali ci si attendono risultati anche in termini di ritorno per il territorio, fra movimenti turistici ed iniziative produttive. In queste immagini la delegazione in visita a Palazzo San Giacomo ha colloqui con Monia Liberti, assessore alla comunicazione dalla promozione della città ed Elena Coccia, già vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. La fondazione ha fra i suoi soci personaggi come Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, Nancy Pelosi, leader dei Democratici alla Camera e Bill De Blasio, il neosindaco di New York originario di Sant'Agata de Goti.